Musica Sono ripresi questa notte gli sbarchi di migranti nelle coste del Basso Sulcis. Villa Peruccio divampano le polemiche per la gestione del parco archeologico di Montessu. La Polizia di Stato era presente stamattina a Carbonia con un camper per sensibilizzare i cittadini contro la violenza sulle donne. Si chiama Includis, il bando orientato alla creazione di progetti di inclusione sociale che verrà presentato martedì prossimo a Carbonia. Ben ritrovati a tutti i telespettatori per questa nuova edizione del TG40, oggi 3 novembre 2017. Apriamo la prima parte parlando di nuovi sbarchi di migranti che sono avvenuti questa notte nella spiaggia di Portopino. Vediamo insieme il servizio. La notte scorsa, presumibilmente, sono avvenuti diversi sbarchi di migranti in località Portopino, nel comune di Sant'Anaresi, in quanto prima sono stati individuati 14 migranti, di cui due donne, tutti di nazionalità algerina. E successivamente, intorno alle 8 e 10 della mattina, ne sono stati intercettati altri quattro anch'essi provenienti dall'Algeria. Le forze dell'ordine, dopo averli rifocilati e identificati, hanno avviato le indagini per capire in che modo siano arrivati nelle nostre coste e se ce ne siano altri sfuggiti e controlli. Tutti i migranti sono stati presi in carico e accompagnati al centro d'accoglienza di Monastir. Andiamo adesso a Villa Peruccio per parlare delle polemiche che divampano in merito alla gestione del Parco archeologico di Montessu e agli inadempimenti contrattuali verso i dipendenti da parte della società che gestisce il sito. Scoppia la polemica a Villa Peruccio a causa della gestione del Parco archeologico di Montessu. Dopo il passaggio di consegne nella gestione del sito tra la società mediterranea e quella Sistema Museo di Perugia sono sorti i problemi per i dipendenti, ovvero le guide e i manutentori del Parco. In quanto la società, fanno sapere i lavoratori, non avrebbe garantito il pagamento regolare degli stipendi e di altre aspettanze contrattuali. Nell'avvertenza è intervenuto anche il sindaco del paese, Antonello Pirosu, che ha chiesto all'azienda di rispettare quanto sottoscritto in sede di rilevamento dell'Apalto e soprattutto di garantire la continuità contrattuale. Anche perché, ha spiegato il primo cittadino, oltre ai legittimi diritti dei lavoratori c'è in gioco la qualità dell'offerta culturale e quindi turistica del territorio di Villa Peruccio. Nonostante le difficoltà ci sono persone che provano a mettersi in gioco e sfidare i problemi del nostro territorio. In questa intervista che vi proponiamo, la storia di Claudia, moglie di un ex lavoratore al COA che sta provando ad avviare una nuova attività imprenditoriale. Guardiamo insieme. Siamo in compagnia di Claudia Cara, una giovane di Carbonia, che nonostante la forte crisi economica e l'assenza di opportunità in questo territorio, ha deciso di mettersi in gioco avviando un'attività imprenditoriale. Ma non solo. Claudia è moglie di Michele, un lavoratore al COA che in questi anni ha lottato duramente per riconquistare il proprio posto di lavoro e Claudia non ha mai fatto mancare la sua avvicinanza in ogni manifestazione al proprio marito. Fino all'ultimo avete provato a riconquistare il lavoro e poi arrivati a un certo punto avete deciso di mettervi in gioco e di sfidare anche la crisi e le difficoltà di questo territorio. Sì, assolutamente. Io sono sempre stata a fianco a mio marito nelle lotte della COA e penso che questo territorio sia molto danneggiato e purtroppo anche noi giovani per evitare di dover andare via. È giusto anche che ci proviamo e cerchiamo di creare qualcosa, dato che comunque lavoro non c'è, è difficile anche essere assunti o comunque... Mettersi in gioco, riuscire ad avviare un'attività imprenditoriale ad esempio. Esattamente sì, che ha le sue difficoltà e le sue costi altissime, però è giusto anche che noi giovani ci mettiamo in gioco e che rischiamo per questo territorio, che per me è un territorio che merita di avere ancora dei giovani qua che ci provano e che rischiano, perché alla fine si rischia. Tu per tanti anni hai provato insieme a tuo marito, insieme a tuo padre, che è un sindacalista dello stabilimento Alcoa, per tentare di risolvere quel problema che è l'avvertenza Alcoa. Hai partecipato a tutte le iniziative, alle manifestazioni, spesso anche manifestazioni dure. Non ci siamo, non vi siete, in questo territorio non sei mai arreso, però arrivati a un certo punto poi hai scelto e deciso di metterti in gioco personalmente. Certo, per forza, era l'unica scelta alternativa, o provi a rischiare, quindi a metterti in gioco oppure devi andare via dalla Sardegna. Ed hai scelto questo tipo di attività, ovvero quella legata ai cosmetici, ai trucchi così in gergo normale. Esatto, è un settore in crescita, è bello poter curare il lato estetico del cliente perché comunque tu lo consigli su cosa è meglio e opportuno comprare per tutto ciò che riguarda l'estetica e quindi consigliarlo è veramente bello. Poi ha contatto col cliente. È anche una passione per te. È una passione per me, sì, assolutamente. Io penso che il cliente va coccolato e va anche consigliato nel miglior modo. Io spero di poter essere, insomma, all'altezza e in grado di poter accontentare tutti. Nel mio piccolo, però, piano piano, poi cerco di, insomma, di crescere insieme a tutti. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro OTG. Parliamo di fiscalità. Il comune di Domusnovas ha approvato ieri un atto di indirizzo a favore della zona franca. Ora la protesta si sposta a Cagliari sotto la regione. Vediamo. Ieri sera il consiglio comunale di Domusnovas, con una storica votazione, ha approvato un atto di indirizzo sulla zona franca, diventando così il primo comune della Sardegna a esprimersi in tal senso. Tale iniziativa politica è stata attuata, ha spiegato l'amministrazione comunale, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo numero 75 del 1998. Questo ovviamente non significherà che da oggi tutti i cittadini e gli operatori economici del comune potranno lavorare in regime d'iva non imponibile o con le accise ridotte sui beni di consumo principali, ma è un passo in avanti che rafforza la battaglia portata su scala regionale da diversi altri soggetti per il conseguimento di questo importante strumento che potrebbe realmente cambiare le sorti economiche della Sardegna. Forte soddisfazione in tal senso è stata espressa anche dalla dottoressa Maria Rosaria Randaccio, presidente del Movimento Sardegna Zona Franca, da sempre in prima linea su questa battaglia. Adesso le prossime iniziative previste per rivendicare questo obiettivo si sposteranno sotto la regione. Stamattina la Polizia di Stato era in piazza Carbonia con un camper allo scopo di sensibilizzare i cittadini contro la violenza sulle donne. Guardiamo l'intervista che abbiamo realizzato ai nostri microfoni e il commissario Maria Gabriella Comi. Oggi la Polizia di Stato in piazza Ciusa a Carbonia per sensibilizzare i cittadini contro lo stalking e la violenza contro le donne. Sì, è un'iniziativa importante che oggi facciamo in collaborazione con la divisione di polizia anticrimine della Questura. La divisione di polizia anticrimine è l'ufficio che si occupa in Questura della formalizzazione dei provvedimenti di ammonimento che sono poi firmati dal Questore di Cagliari. Noi siamo il front office perché noi localmente raccogliamo le denunce e gli esposti delle donne, però poi è il Questore che firma i provvedimenti di ammonimento. Siamo qua oggi per presentarci. Non ci sono soltanto io che sono il dirigente del commissariato ma ci sono tutte le colleghe del commissariato e anche i colleghi della divisione di polizia anticrimine. Siamo qua per cercare un contatto nuovo, umano con i cittadini e soprattutto con le cittadine per far capire cose importanti, cose sulle quali bisogna riflettere, bisogna educare se stessi e gli altri al rispetto reciproco. Le frasi che questo volantino che noi distribuiamo riporta delle frasi molto, molto importanti sulle quali bisognerebbe riflettere. Se ti ricatta, se ti segue, se danneggia le tue cose, questo non è amore. Se ti umilia, se ti spinge, se pretende amore o sesso quando tu non vuoi, non è amore. Se minaccia a te i tuoi figli, se ti offende, se ti zittisce, se ti controlla, questo non è amore. Bisogna rendersi conto che amore e possesso non sono sovrapponibili. Sono le donne innanzitutto che devono imparare a mettere i paletti e a dire no, e bisogna imparare a dire no prima che diventi troppo tardi. Ma se è diventato troppo tardi, noi siamo qua per aiutarvi. L'Assemblea del Partito Democratico, prevista per questa sera all'hotel di Carbonia, è stata rinviata lunedì prossimo alle ore 17.30 nel medesimo luogo. Il rinvio si è reso necessario per via del grave lutto familiare che ha colpito una dirigente del partito. Cambiamo argomento adesso e parliamo della rete unitaria antifascista del Succis Iglesiente che ha organizzato per la giornata di domani a Carbonia un dibattito sul tema delle servitù militari. Vediamo il servizio che ha realizzato Manolo Mureddu. La rete unitaria antifascista del Succis Iglesiente, conosciuta con l'acronimo RUAS, ha organizzato in collaborazione con la rete Aforas, Contras Occupazione Militari de Zasardinia, un dibattito per la serata di domani a Carbonia. L'incontro si terrà a partire dalle ore 16.30 nella sala riunioni del Circolo Soci Euro al Coop, sito in piazza Marmilla. Durante l'evento verrà presentato un dossier recentemente redato in merito alle criticità emerse nei poligoni militari. Verrà analizzata la storia dei poligoni, il loro impatto ambientale e la condizione economico-sociale delle comunità interessate da tali servitù. Subito dopo si terrà il dibattito aperto agli interventi del pubblico. Bentornati in studio, apriamo la terza parte parlando di edilizia. Anche i lavoratori edilissardi incroceranno le braccia nel mese di dicembre per rivendicare maggiori diritti e investimenti per la categoria. Vediamo tutti i particolari nel servizio. Si terrà il 18 dicembre prossimo lo scioppero generale del settore edilizia in Sardegna. La mobilitazione verrà organizzata in concomitanza con quella indetta in ambito nazionale dalle segreterie della Filca CISL, Fenea UIL e Filea CGL. A spiegare le ragioni dell'iniziativa in Sardegna è Giovanni Mata, segretario regionale della CISL Edili, che ha evidenziato i forti ritardi nella contrattazione integrativa che si protraggono da almeno 11 anni, ma anche le enormi difficoltà del settore che in Sardegna nel sul Cislesiente è letteralmente crollato, generando migliaia e migliaia di disoccupati. Una situazione preoccupante e inedita per un settore che storicamente ha rappresentato il volano di sviluppo dell'economia in Sardegna come a livello nazionale. Secondo Mata, per superare questo momento di crisi dell'edilizia è necessario, oltre che il rilancio degli investimenti pubblici e privati, una nuova rivoluzione culturale e un cambio di paradigma all'interno del settore edire, partendo da un rilancio e dal rafforzamento degli strumenti rappresentati dalla bilateralità in tema di rappresentanza e tutela dei lavoratori. Martedì prossimo verrà presentato a Carbonia il Bando Includis, orientato alla creazione di progetti di inclusione sociale e lavorativa di persone con disabilità. Per martedì prossimo, 7 novembre, verrà presentato alle ore 16.30, nella sala polifunzionale di Piazza Roma a Carbonia, il Bando Includis, orientato alla creazione di progetti di inclusione sociale e lavorativa di persone con disabilità. L'iniziativa, organizzata dal Plus Distretto di Carbonia, sarà aperta alle imprese, alle associazioni pubbliche e private e alle cooperative del terzo settore interessate a questo argomento. L'avviso di partecipazione per il Bando Non Competitivo, promosso dalla Regione Sardegna, è stato già pubblicato su tutti i siti istituzionali dei comuni del distretto. Si è rinnovato ieri sera a Carbonia il rito della timbratura della credenziale del Cammino di Santa Barbara. Sentiamo. Si è ripetuto ieri nel Comune di Carbonia il rito della timbratura della credenziale del viandante bolzanese Ferdinando Unterkinker dopo il completamento della tappa numero 22 del Cammino Minerario di Santa Barbara. Ad accogliere il pellegrino è stato il capogruppo della maggioranza in Consiglio Comunale, Manolo Cossu, che ha espletato le funzioni della sindaca nel completamento del rito. Grazie a questi momenti il Cammino Minerario sta diventando un importante attrattore per il territorio, in grado di attirare ogni anno migliaia tra fedeli, appassionati e semplici curiosi. Un itinerario suggestivo, capace di coniugare la passione per le eccellenze naturalistiche con le ancestrali tradizioni del territorio e la riscoperta e il rafforzamento della propria spiritualità. Era l'ultima notizia, il nostro telegiornale termina qui. Io vi ricordo che adesso andrà in onda a Noaz in Curz sul nostro telegiornale Lingua Sarda condotto in studio da Guido Cadoni. Grazie per essere stati con noi e vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci. Grazie a tutti.